Hourrate, istruzioni per l'uso, ovvero come perdere i chili di troppo con un corretto stile di vita. Se ne è parlato all'ingotto di Torino, nella seconda edizione del convegno interattivo organizzato dal Centro Ricerche, Performance e Benessere, Second Advanced Wellness Studies, che è patrocinato dal Consiglio regionale del Piemonte. Tra gli ospiti, accanto a esperti di alimentazione, fisiologia del cuore, psicologia e attività fisica, il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, lo showman, Piero Chiambretti, l'illusionista torinese, Marco Berri e lo chef piemontese d'adozione, Gian Piero Vento.